Avvicinatevi, bambini! State per scoprire lo spettacolo più straordinario di tutta la Francia! Che cosa? Non credi a ciò che dico? Io sono il maestro Vitali, artista ambulante. Conosci già Capi? La nostra scimmietta è Jolie Caire. Ho sentito la tua voce. Hai un dono, ti ho preso con me per farti cantare! È raro trovare un cuore buono e una bella voce nella stessa persona. Mio caro Remy, io e mia madre abbiamo forse ritrovato i tuoi genitori. Si parte! Fermatelo! Devi solo imparare a cantare con il cuore. Fondare dassel가지고 Quana di amore? Quana di amore? Quana di amore? Quana di amore? Si parte! Gata!